Ciao ragazzi, welcome back, io sono Carolina e benvenuti sul mio canale Formula 1 with Carolina. Se non mi conoscete già parlo su tutti i miei social, quindi Twitch, TikTok, YouTube, Instagram, sempre contenuti inerenti al mondo della Formula 1. Faccio un super venga shoutout a Rodrigo, grazie mille per sostenermi. E oggi, come il nostro solito, a lunedì post-gara andremo a capire e ad analizzare insieme i top 3, flop 3, in questo caso, del Grand Premium di Monaco. Vi ricordo come al solito che i miei top e i miei flop possono essere diversi dai vostri, sono tutte comunque cose soggettive, però vi invito nei commenti allora a dirmi i vostri top e i vostri flop. Un Grand Premium a Monte Carlo che si è concluso in questo podio, lo mettiamo qui, Verstappen, secondo Sainz e terzo Lando Norris. Quindi, io direi di andare a partire, per breve linto importante, perché così capirete tutti i miei ragionamenti da qui fino a fine video, Monte Carlo, cosa funzionava, cosa non funzionava? Ha funzionato palesemente l'overcut, quindi stare fuori, spingere al massimo e poi rientrare spesso anche magari davanti ai famosi trenini. Il problema di Monte Carlo è che i sorpassi sono molto difficili, perché se ti avvicini troppo sei nella zona dell'aria sporca, della monoposto che ti precede, e quindi diventa molto complicato anche nell'usura gomma e ti devi allontanare. Sorpassi complicati, anche perché a Monte Carlo se rischi troppo vai a muro e quindi bisogna sempre un po' ragionare e pensare anche con la testa e soprattutto qui i sorpassi li fanno le strategie. È difficile anche poi rientrare dalla pit in pista con i doppiati, con i famosi trenini nel traffico. È comunque un Gran Premio che ad alcuni piace, ad altri no, perché privo di animo, diciamo, comunque è una pista storica ed è giusto che ci sia nel campionato. A bando alle ciance, io direi di partire ufficialmente con i top 3 di questo Gran Premio a Monaco. Paletta alzata super verde, il mio primo top molto felice della sua performance e della sua prestazione durante tutto il weekend, sto parlando di Carlos Sainz. Carlos Sainz mi è piaciuto davvero tanto perché fin dalle prove libere 3, poi alle qualifiche, è sempre stato lì davanti con Charles Leclerc dimostrando che a casa del suo avversario interno, ovviamente alla squadra, lui ne aveva davvero tanto. Carlos Sainz, che anche secondo l'analisi di Marc Genet, è stato l'unico probabilmente in tutto il weekend a guidare molto pulito e soprattutto a usare tutti, a sfruttare tutti gli spazi, diciamo, della pista consentiti, ovviamente non i track limits, sto parlando, senza mai andare oltre il limite e andare a muro. Quindi sappiamo che a Monte Carlo per fare il famoso giro perfetto devi giostrarti con tante variabili. Lui è stato molto bravo. Un po' di amarezza sicuramente l'ha avuta durante le quali tre. Charles Leclerc ha sbattuto e lui era lì che stava facendo il giro e si è trovato mozzato. Deluso anche perché giustamente una Ferrari, con le prestazioni che abbiamo visto nelle prove libere, si meritava una partenza nella starting grid 1-2, 1-3, non lo so, comunque l'ha davanti nei primi tre. Bravissimo Sainz che durante la gara ha concluso tutto in seconda posizione. Ha un po', diciamo, colmato l'amarezza, la sofferenza dei tifosi della Ferrari e ha portato a casa quei punti necessari per il campionato costruttori contro la McLaren. E anche perché della serie io non sono secondo di nessuno, siamo qui, io e Char, non ci battiamo per il titolo, ma ho fatto vedere di che passa sono fatto. Carlo Sainz è un pilota che io ho sempre molto elogiato perché giovane, tanta esperienza, solido, veloce, insomma, ce le ha davvero tutte. Molto importante anche questa prestazione della Ferrari perché vi faccio la domanda, vi aspetto nei commenti, sarà forse il piazzamento più alto della stagione per la rossa? Cioè, in quali altri circuiti la Ferrari avrà davvero la possibilità di fare secondo? Non è assolutamente facile. Per me è bravo anche perché alla fine non è andata ad osare troppo e a prendere Max Verstappen. Alcuni hanno detto, no, alla fine doveva essere più aggressivo ad andare verso Max. Ragazzi, di cosa? La Ferrari in un weekend dove doveva avere e concludere tanto non ha concluso e non ha concretizzato, quindi lui non doveva rischiare, soprattutto con uno come Max, che non è che se lo superi lui non è un Valtri Bottas sulla vendetta, è uno che, insomma, gli si chiude la vena ed è abbastanza aggressivo. Non aveva senso rischiare né per Max né per lui, quindi ha fatto bene a rimanere dove era e a concludere a portare la Ferrari al secondo posto. Ovviamente dopo parleremo della Ferrari e purtroppo l'ho dovuta mettere nei flop. Bando alle ciance, andiamo avanti. Tiro e su la paletta per finalmente, welcome back, Sebastian Vettel. Poteva esserci anche Gasly, ipoteticamente, quindi magari voi nei commenti mi dite, no Carolina, io ho messo Gasly, ci sta ragazzi, ci sta, sono molto soggettivi. Io metto Sebastian Vettel perché l'abbiamo sempre bocciato, cioè io personalmente ho detto dai, quest'anno con l'Aston Martin si ritroverà rinascita, vuoi un mixtra, ho difficoltà di comprendere la macchina, ho una monoposto, un Aston che probabilmente rispetto all'anno scorso che era Racing Point, l'evoluzione dal 2020 al 2021, hanno esagerato nelle linee, nel progetto, hanno estremizzato forse un qualcosa rispetto alla Mercedes un po' too much, quindi si stanno un po' perdendo, non abbiamo ancora capito davvero le prestazioni dell'Aston Martin, concrete e reali. Comunque è stato un bel esploi per tutto il team, ma soprattutto per Sebastian, che entra innanzitutto in Q3, finalmente Welcome Back Sebby, ma soprattutto finisce quinto in gara. Cosa c'è da dire? Ottima strategia da parte del team, l'overcut, l'abbiamo detto, qui pagava davvero in positivo e lui rimane fuori, soprattutto nell'ultima parte del primo stint aveva un passo molto importante, quindi ha detto ok, noi rimaniamo fuori e ci creiamo una gara di questo tipo. Rientrato dalla pit alla gara e ha fatto un bel ruota-ruota con Pierre Gasly che si è trovato ovviamente ad alzare il piede e si è palesemente trovato davanti a Gasly, a Hamilton, bravi e bravissimi in casa a Aston Martin e io spero davvero che questa chance positiva, questa energia positiva di Sebastian lo portino a Baku, che è una pista diversa comunque, però uscito dal tunnel nero, dagli alunni neri di Sebastian, magari questa è stata una piccola gioia che lo farà, pum, rialzare di nuovo, o perlomeno questo è io quello che mi aspetto, ma comunque è un bel feedback positivo, una bella forza mentale che Sebastian ha ritrovato e speriamo la possa mantenere per tutta la stagione. Passiamo alla terza paletta verde che è alzo assolutamente la Red Bull. La Red Bull che ha fatto un ottimo weekend, perché un ottimo weekend? Perché ha concretizzato, ha portato a casa un'opportunità ghiotta che gli si è rappresentata davanti, davanti un po' a una confusione Mercedes. Queste possibilità che ti capitano una volta nella vita, perché sappiamo che la Mercedes, in combinozzo tra Bottas e Hamilton, sono comunque molto solidi da anni, hanno costruito un impero, quindi bravi loro perché hanno colto l'opportunità e non è facile perché qualcuno non l'ha colta e hanno preso la leadership di pochi punti, è vero, però dal punto di vista mentale, è uno bello schiaffo in faccia alla Mercedes, non gli capitava da diversi anni, preso la leadership dal punto di vista del campionato costruttori e da quello piloti. Quindi molto bravi loro, soprattutto perché vincere e fare un bel lavoro così al Gran Premio di Monaco è sempre una bella vetrina a Monte Carlo per gli sponsor, per i media, eccetera, eccetera, quindi insomma ti porti a casa delle belle soddisfazioni, bravi, bravi, soprattutto per quello che hanno fatto con Sergio Perez. Perez che in qualifica, nelle Q3, ha un po' toppato, diciamoci la verità, nono, ma è finito quarto, perché anche qui le strategie sono state fenomenali, l'hanno tenuto fuori, anche qui ovviamente overcut, ma è rientrato davanti a tutto il trenino intrappolato tra Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Lewis Hamilton. Quindi lo so, noi vorremmo vedere dei sorpassi, a Monaco i sorpassi non ci sono, ci sono più che altro sorpassi in pit e quindi questo è, però bravissimo Perez perché ha portato la costanza, quella costanza che serviva e si è giocato un jolly molto importante perché lui correva ma non ha fatto errori, se guardiamo invece purtroppo al povero Valtteri Bottas, ha fatto bene anche Sergio Perez a non andare troppo verso Norris perché doveva ricordarsi che lui come secondo tra virgolette di Red Bull doveva portare tantissimi punti dato che dall'altra parte Valtteri Bottas si è dovuto ritirare. Lo so, noi ragioniamo, no dai, volevamo un po' più di bagarre però ragazzi là si giocano davvero il campionato, si giocano milioni e milioni di dollari e di sterline, di euro, quello che sono, quindi ragionano non gara per gara così un po' alla cavolo ma ragionano in ottica al campionato. Ebbene sì, questo è quello che ci piace però perché vuol dire che è la bagarre aperta assolutamente tra Mercedes e Red Bull, bravissimi loro perché hanno portato a casa tutto quello che potevano portare e quindi il campionato ora è palesemente aperto. Passiamo ragazzi ora verso i bocciati, i top flop diciamo così, alziamo la paletta, la prima paletta rossa che devo dare e sto parlando della Mercedes e ai miei ragazzi ogni tanto ovviamente sbagliano anche loro e devo dire la verità un po' ci piace perché così rimescoliamo tutte le carte. Una Mercedes che ha faticato in tutto il weekend già nelle prove libere Hamilton non trovava il grip non aveva adere insomma un po' bocciato anche lui e durante le qualifiche Bottas ha un po' tra virgolette la fortuna di buttarsi lì terzo e in gara succede quello che succede sfortuna questo è palesemente sfortuna non è neanche un errore loro provano i pit come ha detto Rosberg tre miliardi di volte e poi vabbè il bullone che non si toglieva insomma tra l'altro Toto Wolf ha detto alla fine noi facciamo l'intervista ma c'è la gomma che è ancora incastrata quindi ma è una gioia anteriore destra che non usciva e quindi si è dovuto c'è stato il ritiro da parte di Valtri Bottas mi dispiace poverino non ci voleva né per lui né per il team perché poteva in quel weekend aveva tra virgolette anche sverniciato Lewis Hamilton Hamilton che durante la gara intrappolato dietro per Gasly lo chiamano prima vanno di undercut che non ha pagato assolutamente l'abbiamo detto anche prima e volevano uscire davanti a Gasly in realtà strategia completamente sbagliata perché Hamilton si ritrova nel traffico tra i doppiati e non solo non supera Gasly ma perde due posizioni sto parlando appunto di Perez e di Sebastian Vettel tra l'altro Hamilton è arrivato settimo ma se ci fossero stati Valtri Bottas e Leclerc sarebbe scalato di altre due posizioni quindi male malissimo per lui ci sta è un fenomeno non sbaglia mai ci sta è un essere umano i weekend no li può avere anche lui va bene ok però hanno toppato weekend e di conseguenza adesso la bagana è ancora aperta vedremo quello che riusciranno a fare a Baku ma sicuramente si attaccheranno al 100% verso le ali posteriori un po' borderline della Red Bull e faranno diversi reclami sicuramente loro McLaren Aston Martin si aggregeranno tutti contro la Red Bull questo è quello che mi aspetto ma passiamo al vero argomento di fuoco per noi italiani e comunque per tutta la Formula 1 di quel weekend paletta rossa per la Ferrari slash Leclerc ora mi spiego quello che io vi dirò è una mia opinione personale può essere completamente diversa dalla vostra ed è un'opinione che possiamo dire non è veritiera al 100% perché in realtà la vera verità tutto specifico specifico la sanno solo loro quindi noi parliamo noi commentiamo è giusto così e voglio vedere soprattutto nei commenti cosa ne pensate partiamo nel mio ragionamento Charles Leclerc in Q3 ha sbagliato cioè è un errore un po' borderline che ci può stare e non ci può stare allora ci può stare perché sai hai un'occasione sia a casa tua dopo tutte le sfortune che hai avuto negli anni passati hai l'opportunità e spingi al massimo ok però è importante spingere al limite ma è importante anche riconoscere quel limite e Charles Leclerc non l'ha riconosciuto io vi dico questo errore ci può stare ripeto chiudiamo un occhio però lo puoi fare finché non ti giochi il campionato perché quando ti giochi il campionato questi errori ti tagliano completamente fuori quindi io spero che Leclerc nel bene o nel male comunque possa ancora crescere per certi aspetti e lo comprendiamo ma bisogna anche ricordarsi che nel caso in cui Charles Leclerc se dovesse giocare il campionato in un futuro con Max Verstappen questi errori non può più commetterli ok non l'ha fatta apposta ha fatto dei danni pesanti alla macchina quindi no alcuni dicono no l'ha fatta apposta no ragazzi non l'ha fatta apposta andiamo verso la Ferrari lo sanno solo loro non hanno ancora capito benissimo nelle specifiche cosa sia successo nei problemi eccetera eccetera andiamo al cambio cambio sì cambio no cambio lo cambiamo era il problema al cambio non si sa analizziamo un attimo fattore C il cambio non lo cambi e tieni la pole se sai che al 90% sei sicuro che non ti darà problemi durante la gara altrimenti il cambio lo cambi perché lo cambi mi dispiace la pole è andata così la perdi ti prendi le 5 posizioni di penalità ma lo cambi perché meglio avere un pilota che ti parte sesto magari ti finisce anche sesto o ti può finire anche più avanti con le strategie piuttosto che avere un pilota che non parte proprio in pista non solo delusione tifosi non solo delusione Ferrari delusione Schal ma punti completamente persi zero per la Ferrari da parte di Charles Clark in un'ottica campionato costruttori perché la bagara ragazzi per il terzo posto sono tanti soldi ma anche poi un certo ritorno un po' ai vertici per la Ferrari quindi la bagara è contro la McLaren e questa valutazione era da fare altro fattore che voglio analizzare con voi vai a sbattere in cuterie va a sbattere Charles Clark perfetto la macchina torna ai box la apri completamente la sventri come se stessi facendo un'operazione chirurgica a un paziente essere umano soprattutto perché nel 2021 hai mezzi per farlo credo e anche perché parti in pole quindi hai questa chance ghiottissima per la Ferrari perché non sappiamo quante volte si riproporrà in futuro devi sventrarla centimetro per centimetro ha detto bene Nico Rosberg cioè devi guardarla al 100% la macchina non un po' sì un po' no ha sbattuto nella parte destra ma tu la parte sinistra comunque la devi guardare il problema è stato nel semiasse sinistro che verifichi soltanto quando la macchina è in moto sì no queste cose ripeto le sanno solo loro sta rifatto che tra il sabato e la domenica ci sono stati degli errori errori umani lo diciamo un mix tra shark che ha sbattuto la Ferrari che forse non so poteva metterci più occhio meno occhio questo ripeto è una verità loro però se guardiamo tutto il weekend hanno hanno sbagliato nel non concretizzare hanno sbagliato nel non portare a casa tanti punti il mio discorso è potevano fare 100 hanno fatto 30 soltanto grazie a Sainz e grazie a una macchina che lì a Monte Carlo andava velocissima ragazzi quindi è un peccato davvero per la Ferrari spero che in futuro questi errori non possono ricapitare di nuovo la mia terza paletta rossa alzata per Daniel Ricciardo qui ci poteva stare anche eventualmente Fernando Alonso Fernando Alonso cerco di giustificare leggermente di più ci sta due anni di pausa me lo posso anche più o meno aspettare Daniel Ricciardo no non me lo aspetto innanzitutto perché a parte che è stato completamente sverniciato da Lando Norris che non so cioè lo ha doppiato palesemente che è peggio essere doppiato che sentirsi dire ehi Ricciardo fa passare Lando perché ha più passo di te credo sia molto peggio è stato eliminato nel Q2 Daniel Ricciardo e in gara ha faticato non ha fatto palesemente nulla zero punti al team ha fatto fatica con le medie all'inizio con le hard aveva passo ma dove vai a Monte Carlo che i sorpassi non te li puoi permettere quindi diventa davvero molto complicato lui che in una pista che tra l'altro amava sperava qui e là ha vinto a Monte Carlo ha fatto due pole e ha avuto tanta sfortuna nel 2016 e ha fatto un bellissimo esploit a Barcellona ma è stato poi l'abbiamo detto forse è un esploit forse ho trovato feeling no è un feeling che deve ancora ricostruire lui ha detto sono contento perché comunque vedo che la McLaren ha un buono slancio anche se guardo quello che fa Norris però devi guardare quello che fai tu e non stai andando benissimo questi sono stati i miei top 3 e flop 3 vi aspetto nei commenti per sapere i vostri un piccolo sguardo a quello che potrà essere Baku Baku è una pista completamente missa cittadino sì abbiamo un soprattutto secondo settore nella parte vecchia del famoso I'm stupid là dal castello la Ferrari lì può fare bene perché sono curve lente ma il terzo settore ragazzi è un rettilineo di 2,2 km quindi lì il motore servirà moltissimo nel settore nel primo settore invece è un miso tra curve a 90 gradi leggeri rettilinei però qua il motore serve a differenza di Monte Carlo quindi mi aspetto una Ferrari forse quarta quinta non credo da podio una Mercedes ben competitiva come la Red Bull e serviranno qui le famose ali più scariche quindi la Mercedes farà un patatrack con la Red Bull sicuramente per lamentarsi sotto questo aspetto aerodinamico io vi aspetto ragazzi nei commenti vi aspetto su tutti i miei social e settimana prossima con un nuovo video sempre qui su YouTube ciao